Di qua, forse lo intercettiamo. Prima lo salvo, e poi lo pesto. Andata, ma prima pensiamo a salvarlo. Che cosa crede di fare? Dopo tutto quello che abbiamo... non era abbastanza. Troviamolo e basta. Potremmo superare il muro con questo. Coraggio! Ti aiutiamo noi! Pronti? Un attimo! Fatto! Ok. Bene. Visto? Non reggerà molto. Nate, vai! No! Un attimo! Andiamo! Dannazione. E ora come facciamo a salire lassù? Non facciamo il tempo. Nate! No! Non da solo! Tranquillo. Vado e torno, ok? No, non lo convincerai a rinunciare. Userò le maniere forti se necessario, ma comunque lo porterò via. Tu avvicina il più possibile l'aereo alla montagna e preparati a un decollo rapido. È l'unico che so. Non è giusto. Eh? Per i piatti faremo turni. E non azzardarti a non tornare. Ti amo. Anche io, cowboy. Ehm. 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 Ehm.